Wine Venice, la Vinitaly veneziana Benvenuti in questo nuovo video in cui finalmente abbiamo una scusa per entrare nella scuola grande della misericordia. Vi linko il video delle scuole grandi in alto a destra, che ha accolto un evento unico nel suo genere. Oggi andremo a scoprire all'interno dell'ampio panorama vinico in italiano una selezione di produttori che con i loro progetti, la loro visione, impegno e responsabilità incarnano i valori di Wine in Venice. Degustazioni, masterclass, wine talk che animano il red carpet del vino per giungere a proporre nuovi punti di vista che inquadrino la produzione vinicola in una più ampia riflessione sul nostro modo di stare al mondo, sul ruolo e sull'importanza della gestione dei territori, del rispetto nel contesto in cui si opera. Io e la Nicoletta, che ringrazio per chi aveva gli inviti, abbiamo quindi degustato i vari vini delle cantine presenti, una per regioni d'Italia, selezionate per aver realizzato progetti che rispecchiano i tre pilastri della manifestazione, sostenibilità, innovazione ed etica. Alla seconda edizione erano quattro giorni di masterclass, talk, degustazione di eccellenze italiane come Lugana e Valpolicella e appuntamenti speciali come il Closing Party a Cassa Elet, protocinato da Valdo. Quindi io e la Nicoletta abbiamo assaggiato una serie di realtà molto interessanti, intervallate da alcuni gioppini per evitare il peggio. Purtroppo io non conosco bene i vini e mi riprometto di studiare un po' di più per la prossima volta, un'esperienza da fare. Come ho detto all'inizio è stata un'ottima occasione per mostrarevi l'interno di una delle scuole più grandi e più belle di Venezia. Bello il bicchiere, che però ci hanno fatto lasciare là all'uscita. Vi lascio agli immagini con una bella musichetta. Prima di proseguire volevo dirvi due cose. La prima, che tipo di video preferite? Cucina, cosa si mangia a Venezia, ristoranti, trasporti, itinerari, leggende, posti particolari. Scrivetemelo nei commenti, così cercherò di seguirvi. Se avete idee di qualche format o qualcosa che vi interessa, ditemelo, così magari ci facciamo un video insieme. La seconda cosa è che ho aperto gli abbonamenti, quindi potrete scegliere fra un euro al mese e avete in cambio la mia eterna gratitudine per far crescere un po' il canale. Ho in continuazione spese, volevo andarci almeno a pari. Oppure, per chi vuole, anche 5 euro, in cui avrete accesso al canale Telegram della comunità, in cui potremo parlare insieme e discutere tutto ciò che riguarda Venezia. Detto questo, proseguiamo con il video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.